Siamo qui con Tallone, da poco finito il derby contro il Moretta, oggi due gol importantissimi da Bomber ti sei trasformato Sì sì sì, oggi è andata bene, sono stato anche fortunato, per fortuna sono riuscito a sfruttare due begli angoli ben calciati e siamo riusciti a portarla a casa, un'ottima partita Ecco allora ti chiedo, erano schemi provati in allenamento questi? Ma in realtà no sinceramente, erano palle messe dentro e dovevamo attaccare la palla abbiamo degli schemi però non sono venuti bene per ora, qualche gol l'abbiamo fatto però questi non erano due schemi ma palle messe dentro così da attaccare Era la gara comunque che avevate preparato, che avevate in mente di fare? Sì, era una gara, lo sapevamo che sarebbe stata una gara molto equilibrata e loro comunque sono un'ottima squadra perché comunque aggrediscono molto forte attaccano il nostro possesso palla e quindi ce l'aspettavamo e sarebbe stata lì fino all'ultimo per fortuna appunto siamo riusciti a sbloccarla su due angoli e poi purtroppo il rigore e anche l'espulsione hanno un po' condizionato la nostra attenzione perché ci siamo un po' messi diciamo adagiati sulle acque e quindi siamo stati un po' più tranquilli invece dovevamo ottenere la concentrazione fino alla fine e per fortuna poi siamo riusciti a portarla a casa Prossime gare con quale testa? Eh, testa con la prima cosa... lo primo obiettivo, e ce lo siamo detti, è quello di salvarci e quindi cercare di lottare ogni domenica per smuovere la classifica, fare qualche punto e poi vedremo più avanti cosa succederà A proposito della classifica, siete soddisfatti con la vittoria di oggi? Per ora sì, ogni domenica dobbiamo pensare che è una nuova partita sono tre punti da conquistare, per ora siamo soddisfatti però è ancora molto lungo il campionato e quindi dobbiamo metterci sotto e lavorare duro come stiamo facendo L'ultimo ti chiedo, a chi dedichi i gol di oggi? Ok, uno ai miei compagni, sicuramente quelli che vengono ad allenarsi tutta la settimana e che magari giocano anche un po' di meno e che ci permettono di allenarci bene e che magari la domenica appunto stanno in panchina e non entrano quindi a loro sicuramente e poi una persona speciale che non posso dire il nome ma che ha cambiato anche un po' la mia mentalità e l'approccio alla gara la domenica Grazie